E' buonissima, stai benissimo, non te ne frega più un cazzo di niente, di nessuno, perché sei in pace. Non ti aiuta a crescere, ti toglie, ti toglie ogni voglia di fare qualcosa perché è così, solo che quando poi finisce stai di merda e allora vai a comprarne ancora. Questa si chiama dipendenza. Grazie a tutti.